Ben ritrovati tutti quanti in una nuova puntata del Puzzillo del Sud, chi vi parla è il vostro sempre più trasportatore di uranio puzzillo e oggi vediamo la recensione completa di Nucleum. Prima di iniziare come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno, non dimenticate di attivare la campanella e se volete ottenere i vantaggi esclusivi premete sul tasto grazie o abbonatevi cliccando qui. Inoltre ci tengo a informarvi che la recensione sarà piena di foto dell'inserto di The Dice Troyers e devo ammettere di essermi trovato davvero molto bene. Velocizza il setup, tiene tutto ordinato all'interno della scatola e cosa molto importante il gioco occupa meno spazio sul tavolo. Se volete più informazioni o ne volete acquistare uno trovate il link in descrizione e nei commenti oppure per i più pigri lo lascio direttamente qui. Nucleum è un gioco da tavolo competitivo da 1 a 4 giocatori della durata indicativa di 60-150 minuti a partita localizzata in italiano dalla Cranio Creations che fra l'altro ringrazio tantissimo per avermi fornito la copia per potervi fare questo video e detto ciò possiamo partire subito con la recensione e quindi si comincia. Allora sul fronte della componentistica non gli si può dire niente per quanto riguarda la quantità dei materiali mentre per quanto riguarda la qualità qualcosina si poteva migliorare come ad esempio le plance delle tecnologie che hanno le stecche intermedie che sono troppo fini. All'interno della scatola troverete davvero tantissime tessere, segnalini, cubetti e pedine però questo si traduce con un sacco di spazio utilizzato sul tavolo. Se vi ritrovate con un tavolo piccolino barra medio allora avrete tanti problemi a sistemare il gioco perché specialmente apparecchiandolo per 4 giocatori occupa troppo spazio e poi deve ammettere che anche l'ergonomia lascia piuttosto a desiderare. Controllando per bene le informazioni si riescono a trovare però il problema è come vengono sistemati determinati componenti. Infatti preparatevi che i tempi di setup sono molto lunghi rispetto alla media dei gestionali e quindi trapiazzare tutti i componenti e preparare il tavolo di gioco secondo me ci metterete una ventina di minuti. Insomma a parte la quantità della componentistica il resto lascia a desiderare. Spostiamoci adesso all'ambientazione e tranquilli che non stiamo parlando di un gioco completamente astratto perché comunque hanno cercato di tematizzare il più possibile il trasporto del carbone come anche dell'uranio per poi alimentare le strutture nelle varie città. Certo non vi aspettate l'aerogame più ambientato di questo mondo perché in particolare il sistema dei binari con i colori è piuttosto freddo però bisogna dire che nel panorama attuale c'è anche di peggio. Sinceramente per come la vedo io è piuttosto nella media. Per quanto riguarda le meccaniche sicuramente questo è il punto forte del gioco perché sono fatte molto bene e non mi trovo d'accordo con quelli che lo paragonano un po' a brass e un po' a barrage. Sicuramente a livello teorico ci sono alcuni spunti in comune però poi all'atto pratico sono dei giochi completamente diversi. Per quanto riguarda il gameplay semplicemente il giocatore attivo dovrà scegliere tra tre azioni differenti ovvero se sfruttare una tessera piazzandola sulla propria plancia oppure se piazzarla sul tabellone come binario e quindi svolgere le azioni. Infine abbiamo la ricarica che è praticamente un ripristino con tanto di entrate e punteggi però per quanto riguarda le tessere sulla propria plancia semplicemente attiviamo le azioni che vogliamo nell'ordine preferito e poi al massimo vi è la possibilità di completare un contratto. Invece per quanto riguarda i binari andremo a creare le reti tra le varie città che permetteranno di sfruttare le centrali come anche lo spostamento delle risorse però una cosa intrigante è quella dei colori da far combaciare. In base ai colori dei pezzi adiecenti si potranno svolgere più azioni e in alcuni casi addirittura regalare delle azioni ai nostri avversari e poi al completamento dell'intera tratta si ottengono dei bonus. Le azioni mi sono sembrate piuttosto classiche per questa tipologia di giochi ovvero la costruzione di diverse strutture come ad esempio gli edifici le miniere e le turbine o ancora il recuperare contratti o nuove tessere azione. In base a un sistema di consumo e logistica potremo alimentare alcuni edifici ottenendo dei benefici come anche i segnalini risultato e questi serviranno durante l'azione della ricarica. In base ai progressi ottenuti sbloccheremo degli elementi da piazzare sulla mappa come anche dei punteggi migliori alla fine della partita e infatti uno degli elementi principali del gioco è sicuramente l'utilizzo delle tessere. Preferisco sfruttare meglio le mie entrate piazzando le tessere sulla plancia? Oppure mi porta avanti con i collegamenti e le reti? Insomma per come la vedo io le meccaniche sono fatte bene e funzionano una meraviglia e infatti da questo punto di vista hanno fatto un lavorone. Spostiamoci adesso all'interazione e devo dire che ce n'è parecchia più in diretta che diretta perché comunque si possono sfruttare i collegamenti altrui per completare una tratta. Grazie alle mosse dei nostri avversari potremo ottenere più azioni come anche nuove possibilità e poi ancora potremo usufruire delle turbine per spostare l'uranio e quindi alimentare le strutture. È vero che bisognerà pagare le monete al proprietario della turbina però in alcuni casi è fondamentale ottenere quel trasporto. Poi come tanti altri giochi del genere il primo che si frega è migliori i contratti ha sicuramente una marcia in più e infatti buona parte della partita ruota attorno al tempismo e riuscire a sfruttare meglio determinate situazioni. A livello di interazione diretta abbiamo praticamente poco e nulla mentre invece chi adora quella in diretta andate tranquilli. L'interazione è sempre più sentita con l'aumentare del numero dei partecipanti e infatti per chi cerca un multisolitario io consiglio di rivolgersi altrove. Arriviamo adesso alla rigiocabilità. Questa è data in parte dal setup che cambia continuamente perché ognuno dei partecipanti ottiene diverse tecnologie ci sono anche differenti contratti di partita in partita come anche obiettivi e tessere azione ma poi durante la partita la rigiocabilità è data sicuramente un po' dall'adattamento. È vero che la parte della pianificazione è importante perché comunque serve per i nostri scopi ma poi potremo sfruttare per i nostri interessi anche le tratte costruite dagli altri. Ovviamente se lo giocate continuamente sentirete il bisogno di espanderlo e infatti se non ho capito male sono già state annunciate due espansioni. Valutando la sola scatola base vi dico che la rigiocabilità è buona ma non estrema. Adesso a chi è adatto questo gioco sicuramente lo sconsiglio a neofiti come anche giocatori occasionali perché visto il quantitativo di regole la prima partita è praticamente di rodaggio. Per quanto ci siano molti concetti alla fine il gameplay è molto lineare però l'ottimizzazione è tutt'altra cosa. Io lo consiglio a giocatori esperti o comunque chi mastica gestionali e cinghialoni perché comunque è uno di quei titoli dove l'esperienza e la padronanza vengono ripagate. Certamente non è un gioco punitivo dove al primo turno viene uscita dalla partita però se uno inizia a prendere il largo è difficile da recuperare. Insomma per me Nucleum è un gioco per gente navigata. Spostiamoci adesso alla fortuna e state tranquilli perché a prescindere dalla pesca degli obiettivi come anche le tessere azione questa non si sente granché. In merito alle tessere azione comunque riusciamo sempre a trovare quella che ci serve come anche le tessere obiettivo che più o meno si assomigliano e infatti da questo punto di vista Nucleum è fatto come un gestionale vecchio stampo. La fortuna è ridotta al minimo l'adattamento un po' si sente però rimane un euro game controllabile e dove potete pianificare a lungo termine. Quindi non vi preoccupate che sicuramente non sarete in balia del caso. Arriviamo adesso a uno dei problemi principali del gioco ovvero la scalabilità. In due giocatori per quanto vi sia la mappa e le regole apposite rimane comunque troppo largo e il gioco ne risente in interazione e infatti ognuno si coltiverà tranquillamente il suo articello. D'altro canto in quattro giocatori sicuramente l'interazione esplode però innanzitutto la durata della partita diventa importante perché si può arrivare a tre ore e poi cosa ancora più devastante sono i tempi morti. Il gioco è affetto da tantissima paralisi da analisi che la si percepisce in determinate situazioni e infatti per le partite che ho potuto giocare la sua configurazione migliore è sicuramente tra i giocatori. Insomma come vi ho detto poco fa purtroppo la scalabilità è il suo tallone da kill. Spostandocela durata è certamente in media con i gestionali di questo peso e infatti la prima partita potrete raggiungere tranquillamente le tre ore mentre successivamente in base al numero dei partecipanti e all'esperienza di costoro potreste arrivare a due ore di partita massimo due ore e mezza. Insomma per un Eurogame peso massimo direi che ci siamo. In definitiva Nucleum è un gioco che mi è piaciuto tantissimo perché a livello di meccanica è solido e anzi fatto molto bene però peccato che qui e lì sia tempestato di problemi. Tempi di preparazione allucinanti, ergonomia scarsa, un manuale prolisso come anche lo spazio che occupa sul tavolo per non parlare della sua scalabilità atroce. Purtroppo la scalabilità va a incidere molto sulla durata come anche i tempi morti e infatti preparatevi a tantissima paralisi da analisi. A parte ciò il titolo sarà sicuramente amato da chi mastica cinghialoni belli pesi e infatti a parte i problemi che vi ho elencato per me è promosso. Detto ciò siamo arrivati alla fine del video. Innanzitutto mi scuso perché non ho potuto realizzare un tutorial ma ho visto in rete che già se ne trovano tantissimi. Inoltre il contenuto sarebbe dovuto uscire subito dopo la play però causa un sacco di impegni e lavoro proprio non ce l'ho fatta. Infatti ho preferito puntare a una recensione approfondita in modo così da farvi capire meglio il mio pensiero sul gioco. Adesso però voglio sapere la vostra, lo avete provato, vi è piaciuta la recensione? Fatemi sapere, commentate qua sotto. Vi ricordo infine di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno. Non dimenticate di attivare la campanella e se volete ottenere i vantaggi esclusivi premete sul tasto grazie o abbonatevi cliccando qui. Vi ringrazio tantissimo per aver visto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!